Sono 662 nuovi casi in Abruzzo, il 15,7% dei 4.223 test processati nelle ultime 24 ore. Si tratta di persone d'età compresa tra 8 mesi e 99 anni, di cui 392 sono riferite a focolai già noti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 16 nuovi casi e sale a 644, di età compresa tra 60 e 100 anni, 7 in provincia di Chieti, 6 in provincia dell'Aquila e 3 in provincia di Teramo. Dei nuovi casi di oggi, considerando anche le ultime verifiche sulla provenienza dei contagiati, 261 sono in provincia dell'Aquila, 121 in provincia di Chieti, 98 nel Pescarese e 190 nel Teramano, mentre per 7 sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti, sono 10.950 più 522 rispetto a ieri. Di questi, 546 pazienti più 16 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 51 più 5 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 10.353 più 501 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità.